Perché la famiglia sotto attacco? Questo attacco alla famiglia è iniziato negli anni 60 del secolo scorso e vi è in corso un processo di decostruzione dell'istituto familiare. È avvenuto, è iniziato con l'eliminazione del divieto di vendita degli anticoncezionali e poi è proseguito con il divorzio, l'aborto, fino ad arrivare alla legge sul transessualismo, le unioni civili e tante altre leggi che io ho percorso nel mio libro La famiglia in Italia dal divorzio al gender. Ora ci sono altri tipi di attacchi, per esempio c'è il gender che sempre dagli anni 60 è in corso che praticamente dice che la sessualità è un costrutto culturale. Parlare di famiglia oggi non è facile perché vi sono delle forze che mirano a distruggere la famiglia, come ha detto sia Papa Francesco ma anche il precedente pontefice Benedetto XVI. Quindi da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto, l'incontro di questa sera serve appunto a dare delle categorie, a capire il contesto in cui noi viviamo e quali sono queste forze che mirano a distruggere la famiglia. Come mai lei ha deciso di fare questo incontro? Perché in realtà nessuno vuole che si parli di questo. Certo, vi è una dittatura del pensiero politicamente corretto, quindi si evitano determinati temi e anzi in questo momento soprattutto in America ma si sta sviluppando anche in Europa e in Italia l'ideologia woke e la cui metastasi è la cancel culture, cioè nel senso che è una dittatura del politicamente corretto. In America per esempio stanno mettendo fuori gioco degli intellettuali, dei professori universitari, dei giornalisti, proprio perché non si adeguano al pensiero politicamente corretto. Già ci sono delle avvisaglie qui in Italia. Quindi diciamo che parlare di famiglia oggi non è facile perché vi sono delle forze che mirano a distruggere la famiglia, come ha detto sia Papa Francesco ma anche il precedente pontefice Benedetto XVI. Quindi da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto, l'incontro di questa sera serve appunto a dare delle categorie, a capire il contesto in cui noi viviamo e quali sono queste forze che mirano a distruggere la famiglia.